Musica Un bambino che guardava il cartone animati che ascoltava le sigle dei cartone animati quando era piccolo e che di fatto non ha mai smesso perché sono passato ad essere un bambino fruitore di questo genere musicale ad essere un adulto professionista che ne realizza di sue e che quindi cresce altre giovani generazioni di piccoli degli spettatori che probabilmente domani saranno dei musicisti e che spero apprezzeranno il lavoro che stiamo realizzando adesso con il mio gruppo di lavoro. Come è difficile stare al mondo Come è difficile stare al mondo Siamo proprio dignifici, credo, perché ci siamo guadagnati la fiducia di Cartoon Network, delle Retirai soltanto nell'ultimo anno abbiamo realizzato 14 sigle televisive in un anno che credo mai ci era capitato prima e no, è un onore, è un piacere, è un divertimento spero che questa fiducia guadagnata sul campo corrisponda anche a un seme che stiamo gettando per il futuro perché in qualche modo questo è un lavoro che ci entusiasma e vediamo che i piccolini reagiscono alle nostre sigle un saluto da me e dai raggi fotonici che sono virtualmente con me tanto poi ce li montate con Photoshop e facciamo pinta che sono qua Ciao! 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 Ciao!